Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi presentazione della nuova collezione di La Femme, la collezione estiva, eccola qua, ragazze sono dei colori pazzeschi, pazzeschi, la collezione è in collaborazione con la squadra di ginnastica ritmica, campionesse italiane, quindi bellissima questa collaborazione, qua abbiamo le ragazze che fanno proprio parte della squadra, molto bella quindi veramente molto a questo punto realistica diciamo questo pack esterno, bellissimo, ma direi di concentrarci sui colori, allora Ahimè non mi hanno mandato insieme alla collezione la brochure, quindi ve la metto qua da qualche parte, con eventuali nomi che ovviamente sono nomi ispirati sia alle figure della ginnastica ritmica, sia agli accessori che usano per appunto effettuare questa tipologia di sport, quindi nomi presi proprio dalla ginnastica ritmica, bellissimo, quindi come al solito kit di sei colori, se prendete tutto il kit uno vi viene omaggiato, altrimenti se volete prendere il singolo colore vi do sempre il mio codice sconto che è PAMELA12 che vi fa risparmiare un pochino, io vi consiglio sempre di prendere sempre tutta la collezione perché sono bellissime, quindi nel senso se poi col fatto che è un colore è in omaggio, c'è sempre giusto un colore che magari può piacere meno, quindi tanto vale prendervi tutta la collezione che così avete il risparmio e avete tutto il kit, i colori sono super accesi, super fluo, super spiccanti, bellissimi, veramente bellissimi, quindi direi di andarvi a presentare ogni singolo colore, facciamo un bello zoom e partiamo con l'H371, un fucsia pazzesco, bellissimo, super coprente, corposo, bellissimo, già con una singola passata, veramente hanno una coprenza pazzesca e sappiamo che per chi come me ormai usa i colori La Fama da una vita, sappiamo che sono super autolivellanti, quindi ragazze è bellissimo questo colore, vi lascio il nome qua scritto perché ripeto, purtroppo non ho la brochure, quindi non posso dirvi il nome ora così, avrei potuto scrivermelo, ma preferisco lasciarvelo scritto qua sotto, almeno così vedete il nome, comunque l'H371, vediamolo come al solito, sempre in versione lucida, in versione matte, cosa non è questo colore, cosa non è questo colore, pazzesco, bellissimo, andiamo avanti, abbiamo un viola, io sono amante del viola, anche se qui dalle mie zone io sono di Pisa, il viola non è molto amato, perché appunto per un discorso calcistico, però io lo adoro, ed è l'H372, bello, anche questo super coprente, già con una singola passata, è veramente molto bello questo colore, e anche lui lo vediamo appunto in versione sia lucida, che opaca, opaca ragazzi questo colore è pazzesco, è veramente pazzesco, bellissimo, poi abbiamo un blu, abbiamo l'H373, un blu bello intenso, però super luminoso, è spettacolare, e questo abbinato anche agli altri tre colori, è top, specialmente abbinato anche al colore che vi faccio vedere dopo, guardate, vedete quanto è bello luminoso questo blu, bellissimo, anche lui è molto bello in versione matte, poi abbiamo un colore che odio particolarmente, che è il giallo, l'H374, questo è un giallo fluo, è un giallo fluo, e mi sembra un giallo un po' diverso da tutti gli altri fluo, nel senso che io di solito con il giallo fluo, specialmente se devo fare un monocolore, al di sotto metto sempre il bianco, perché risulta più bello, questo potrebbe sembrare già che, insomma che all'interno abbia già una componente bianca, quindi è probabile che riusciamo a stenderlo senza al di sotto il bianco, quindi dovrebbe essere già bello così, puro, però ovviamente vi faccio vedere che dalla tip vi dico sì, stendetelo senza il bianco sotto, dobbiamo capire se sull'unghia è fattibile, vi farò sapere come è steso su unghia naturale, vi aggiorno, vi aggiorno, perché i gialli sono sempre un po' rognosi da da stendere, ecco, diciamo che il giallo in tutta la collezione è quello che mi entusiasma sempre meno, perché a me il giallo non piace, però ripeto, col fatto che uno è un omaggio, avrebbe poco senso acquistarli singolarmente, perché gli altri sono pazzeschi, secondo me tutti da avere, quindi tanto vale prendere il kit, comunque ve lo faccio vedere anche lui steso su tip, eccolo qua, cioè come punta di giallo è molto bello, tra l'altro è molto bello abbinato agli altri colori che vi ho già fatto vedere, perché guardate quanto è figo col blu, guardate quanto è figo col viola, bellissimo anche col fucsia, però io a contrasto mi piace tanto con il viola e con il blu, con il blu è pazzesco, veramente pazzesco, quindi qui sbizzarrite la vostra fantasia e create sicuramente qualcosa di magico con questi colori abbinati. Poi andiamo avanti, H375, anche lui è bellissimo, è un corallo, un corallo ma è stupendo, questo è veramente veramente bello, veramente bello, anche lui super coprente in una sola passata, è steso su tip sia in versione matte che in versione lucida, è stupendo, questo è veramente bello, mi piace tanto, questo anche abbinato a qualcosa di oro, è meraviglioso, è bello abbinato al blu, è bello abbinato al viola, fare una sfumatura, bellissimo, veramente bello. Ultimo colore, abbiamo un arancio che non può mai mancare in estate, l'H376, io sono amante dell'arancia, nonostante a me non stia benissimo, ma io lo metto lo stesso, perché io lo adoro, anche lui abbinato con l'oro è pazzesco, guardate quanto è bello, molto bello anche lui, anche lui una stesura pazzesca, e ve lo faccio vedere su tip, un arancio bello luminoso, questo richiama proprio l'estate, e anche qua a livello di abbinamenti è tanta roba, perché possiamo fare una bella sfumatura col fucsia, perché sono due colorazioni che si amalgamano bene fra loro, bellino col giallo, ma io lo preferisco col blu, a me il contrasto con il blu e colori fluo mi fanno impazzire, guardate quanto è bello, ma è altrettanto fantastico sia con il fucsia che con il viola, guardate l'abbinamento con il viola, pazzesco, veramente pazzesco, quindi che dire ragazzi, questa collezione spacca di brutto, spacca di brutto e le clienti impazziranno per questa collezione, quindi non esitate, prendetela assolutamente, perché è bellissima, e vi terrà compagnia per tutta l'estate, assolutamente, molto molto bella, sul sito ci sono altre novità, due piastrine di moira, molto carine, ci sono degli adesivi, insomma ci sono tantissime cose, e abbiamo anche un gadget, che la fama ci regala sempre, o specchietto, o agendina, stavolta abbiamo un cappellino, carinissimo, che c'è anche sfondo rosa, e scrittina bianca, io in questo caso ce l'ho bianco con la scrittina rosa, molto molto carino anche per il mare, quindi ragazze, per questo video super veloce è tutto, seguitemi su Instagram, perché ovviamente andremo a fare delle comparazioni, perché voglio vedere lui, lui, anche il blu, insomma, perché abbiamo diversi blu, diversi fucsia in collezione, quindi voglio capire se c'è differenza, o se si somignano, quindi seguitemi su Instagram, perché ovviamente metterò eventuali dupe, ok? Vi mando un mega bacione, buon shopping!